Invece più vicino a casa nostra, ovvero a Varese, ieri vi davamo notizia di questo intervento importantissimo della polizia locale. Sotterrava rifiuti speciali in un campo, nei pressi di Via Dalmazia. È un varesino di 58 anni, denunciato dalla polizia locale che lo ha sorpreso e che nel corso degli accertamenti è anche riuscita a immortalare queste inequivocabili scene. Addirittura una di queste scene mostra una piccola ruspa che seppellisce vario materiale. E stando a una prima ricostruzione, l'ingente quantità di materiale sotterrata comprenderebbe amianto e grossi barili di olio. Ad aggravare ulteriormente la posizione dell'uomo, il fatto che come lui stesso avrebbe ammesso agli agenti, l'occultamento di rifiuti andava avanti da parecchi anni. L'intervento è stato effettuato dal nucleo ambientale della polizia locale, dai vigili di quartiere, sono coordinate, ed è coordinato sotto forma di indagini, dalla procura di Varese. Ovviamente vedremo anche quali saranno gli sviluppi perché il fascicolo è stato aperto proprio ieri.